Signore e signore, benvenuti al nuovo episodio di Massimo 96. Signore, oggi voglio dirvi una cosa bella. Che cosa... Allora, che cosa mi dite alla mia segna? Niente? Cioè, non dugare qualcosa? Niente? 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 Ma... Io perlino. Magante? Magante? Ok. Ura mia... Signore! Guarda che può? Ecco... Ecco... La mia segna... Ecco... La mia segna... La mia segna... La mia segna... Ecco qua... Abri da tutta la... C'è immagra... C'è un po' di qua... Dicò si... Che vuoi vedere? Ciao! La fai così... La 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 la... Vabbè, bella, carina... L'ho pagata molto poco... Era... L'offerta... Era... L'ho pagata con gli gub... E... E niente... Quindi... I video li faccio un po' qui a segna... E perché non c'ho manco... La PS4... Perché... Se lo registravo... Così... Registravo... Là... Io mettevo... E che vedo su e... Là proprio... Là... E poi... Vabbè... Vabbè... Questa è la segna qui... La Greenland... Ah... Che non si vede... Perché io sono troppo grosso... Per me... Cioè... E niente... Qui... Ah... Alla segna... O mai c'ho uto... Cuffie... Migrosimo... La segna Greenland... C'ho... C'ho uto... E... Signore... Adesso cerco a parlare... Perché... Sono molto... Ero di avere... Sa cazzo... Che sei già da... Pettavo... Gagato... Treppo... E... E niente... Ah... Forse... Quando... Quando... Io... Signore... Ho preso i cavi... Di 4K... Signore... Guardate... 4K... Perché... Forse... Avrò... Ehm... Il... 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 Di 4K... Io... Vego... Vego... Bene... Però... Mi piace troppo quello... E niente... Signore... Ho fatto vedere la segna... Qui è un video... Abbotting... Potrò dire... E niente... Se mi piaceva qui... A segna... Raccendomi... Ressori con me e hanno un'occhiata a me già. Vero Giori!